a dire la verità siamo pronti anche noi io qui a fianco a me tarcito evviva ma di evviva e di tantissimo parleremo tra un po one republic a dire la verità è la verità raccogliere se sospiro non ti allarmare come avrete visto ho recuperato la mia eleganza per fare l'onore di casa a un grandissimo personaggio chi mastica l'arte sa di chi stiamo parlando perché è un artista con la A maiuscola lui si chiama in realtà Nicola Strippoli ed è pugliese però ha in un certo modo stravolto la sua vita perché per come e come mai lo scopriremo all'interno di questo programma quindi do il benvenuto a Tarcito e grazie io vorrei dare il benvenuto a tutte le persone che non vedo ma che stanno ascoltando o guardando da qualche parte ed è bella questa sensazione di essere da solo in due ma invece siamo una piccola folla evviva a tutti quanti ecco evviva ma prima di parlare di evviva io ti chiedo di fare una piccola tua scheda autobiografica si si pugliese nato in provincia di Bari vivo a Bari come studi architettura la madre delle arti e poi piano piano dall'architettura insomma sempre però poetica sono entrato nel design per entrare poi nell'arte per cui architetto da una parte artista dall'altro e docente alle accademie di belle arti pure noi abbiamo avuto ospite nella scorsa edizione Angelo Perrini che è proprio dell'accademia un collega di belle arti il professor Angelo Perrini lui tiene a sottolineare accademia di belle arti e non delle belle arti che è una cosa diversa hai detto prima una parola importante evviva che tu non dici per caso anche perché non fai le cose per caso ma sono delle cose che fai perché le senti sì sì evviva è una parola che è diventata un po' desueta nel nostro linguaggio andrebbe spolverata e rimescolata nel nostro vocabolario nel nostro lessico ma evviva per te che cosa significa? sì evviva è un'espressione sonora dell'entusiasmo dell'entusiasmo entois la radice di entusiasmo appunto entois significa Dio dentro Dio significa luce significa la parte più straordinaria di noi significa mistero significa bellezza ecco il riconoscere questa bellezza fuori dentro di noi provoca evviva è un suono collettivo come dire è un abbraccio a più persone quindi tu quando saluti una persona con evviva no 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 non è uno standard mi capita spesso che viene fuori questo suono quando saluto una persona posso stringere una mano posso abbracciare o posso salutare in altre maniere ma secondo te quando stringi la mano ad una persona c'è un trasporto magnetico e quasi spirituale tra una e l'altra sì sì beh volendo dipende dall'intensità ma non solo l'intensità dalla consapevolezza di questo incontro della mano che è una meraviglia la mano è meravigliosa la mano è un miracolo con la mano possiamo fare tantissime cose possiamo anche accarezzare possiamo indicare è davvero uno strumento meraviglioso ecco se abbiamo la consapevolezza di questo uniamo due meraviglie per esempio ultimamente sto facendo una performance d'arte dove io metto una sfoglia d'oro sulla mano di chi vuole invito le persone spiegando cos'è l'oro materia divina chi vuole viene e io metto questa foglia d'oro come dire sacralizzo questo strumento straordinario e dopodiché c'è la stretta di mano questa è una ritualità questa è una celebrazione in questo caso è viva signori fulmini e saecchi su questa puntata di stasera vedrete che cosa succederà noi non vogliamo essere arroganti come dice Hirama ma vi vogliamo introdurre nel nostro cammino materiale e spirituale arrogante come un taglio con insale ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare e sono un arrogante tutte le volte che ricordi ho messo da parte non è importante bello confesso è il brano che sto più ascoltando in questo periodo l'ho dichiarato sulle nostre pagine che hanno presentato anche il personaggio che è con me questa sera l'ospite Tarcito poi ci spiegherai che cosa significa Tarcito perché questo nome non ti è stato dato per caso ma da un sommo personaggio una persona davvero importante che è Osho la tua musica è un po' diversa lo so è un po' anzi è solamente devozionale mi stavi dicendo intanto noi andiamo a prendere un brano dal libro dei ricordi della nostra musica questi si chiamano l'articolo 31 tra questi c'è un novello J-AX per un brano che ha per titolo Domani ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà Domani però domani un altro bacio dimmi che sapore avrà Domani tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà non so dove mi porterà questa marea a largo arriva non ho idea se con qualcuno o se con te non so domani neanche se sarò con me Domani articolo 31 J-AX io ricordo che ho intervistato proprio J-AX alla presentazione di questo brano stiamo per andare in pubblicità ma prima di cedere lo spazio alla pubblicità voglio dirvi che il 14 luglio a Montescaglioso il comune di Montescaglioso organizza la grande lirica da Verdi a Puccini a Frappello Radiosa Music è la radio versatile che puoi ascoltare e guardare come vuoi in radio in tv sul web e social promuovi la tua attività con Radiosa Music chiama il numero 0835 19 71 282 o invia una mail a marketing chiocciola radioradiosa punto it Radiosa Music sceglila come vuoi ultima produzione del mio amico Toto Marcucci questa bellissima canzone di Bianca Mazzei Azei non Mazzei Azei la mia bocca ringrazio ancora Toto Marcucci perché ci sta regalando delle produzioni davvero molto ma molto eccelse praticamente e adesso Show Mendes e Camilla Carveio per Signorita in attesa della Meteopillola 認為 novità 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 quelle che praticamente ci fanno girare la testa Showmendes e Camilla Carbeio A proposito di signore e di signoritas tante ti ascoltano e ti dico di più dobbiamo dire a Marco Quintano di legarti qui in radio perché ti chiameranno dall'America probabilmente mi è giunta sta vocina una radio statunitense canadese chiamerò a me magari vengo anche io insieme visto che siamo coppia soltanto che io e te nella tenda canadese staremmo un po' stretti in campeggio io ci stavo però ci stavo da solo come dicevo a Tarsito qualche secondo fa mi piace questo nome signor Tarsito gliel'ho già detto e mi piace tanto azzecchi tutto io a proposito stasera ho portato 4 palline da tennis ma di ghiaccio di ghiaccio eh visto quello che è successo ieri io sinceramente mi sono un po' spaventato ti do di dire la verità perché comunque era preventivato quello che è successo però non si può prevedere diciamo al 100% quello che possa accadere in quei casi addirittura alcuni siti di Matera qualcosa che girava sui social avevano preventivato la formazione di una tromba d'aria a Matera però che però c'è stata sulla costa ionica verso Castaneta Marina sì c'è stato qualcosa di bruttino e io vorrei soltanto a Stati da sono un po' più serioso però voglio fare il sapientone per un attimo una grandinata di questa portata si verificò soltanto nel 1973 e interesso metaponto e io ero piccolino non mi ricordo con gravissimi danni alle strutture alberghiere alle autoletture all'agricoltura io non lo so anche immaginare anche perché che furono ricoverate addirittura in ospedale perché in Grecia in Grecia la perturbazione che ha interessato noi nel tardo pomeriggio di ieri perché era prevista verso le 17 noi l'abbiamo avuta a Matera verso il 19 si è spostata successivamente con un secondo fronte perché il nostro era il prefrontale che è arrivato sulla Grecia e ci sono stati dei morti addirittura in Grecia ci sono stati mi sembra 6-7 morti per cui vogliamo ricordare un attimino come si è arrivati alla formazione di queste celle perché tu ricorderai sicuramente quando ci siamo visti giovedì scorso abbiamo fatto la trasmissione in piena calura avevamo 40-41 gradi a Matera logicamente Gino tutta l'aria tutto il vapore che appunto è venuto su dal mare il vapore acqueo come diceva Toto acqueo che si è sollevato nel momento in cui è arrivato questo frontale di aria fresca dai Balcani perché sono comunque correnti atlantiche ha fatto in modo che il vapore che era presente nella stratosfera si è mutato si è tramutato in ghiaccio e le conseguenze sono queste perché ci sono stati seri danni speriamo che non si verifichi più stanno ancora quantificando e quindi vedremo che cosa succederà ma Tacito vuole sapere che cosa succederà nelle prossime ore nei prossimi giorni sia in Puglia che in Basilicata infatti ricordiamo che le nostre previsioni sono soltanto per Puglia e Basilicata non ci allarghiamo troppo perché dobbiamo essere un pochino più precisi per quanto riguarda la località allora Gino in questo fine settimana purtroppo non ci sono buone notizie perché domani sabato e domenica in arrivo una nuova corrente perturbazione atlantica che porterà delle precipitazioni piovose temporalesche speriamo che non si riformi ancora grande sicuramente saranno precipitazioni molto meno pesanti rispetto a quella di ieri però comunque siccome le correnti a livello stratosferico sono cambiate perché l'anticiclone africano si è ritirato e ha lasciato spazio a questa lingua che proviene di nuovo dai Balcani dalla Russia direttamente da aria fresca a venirci a interessare sarà un po' più difficile adesso ritrovare quelle condizioni di aria calda che abbiamo avuto fino all'altro giorno per cui in questo fine settimana il tempo sarà con temperature fresche con abbastanza vento e oserei dire anche abbastanza freschetto al mattino le temperature non andranno oltre quelle massime oltre i 27 gradi di giorno addirittura la notte potremo raggiungere 17-18 gradi però udite udite e questa è un'anticipazione che do fino purtroppo al 28 di luglio l'estate ci lascia cioè nel senso che non è che non vedremo più il sole però a tratti andrà e verrà con una serie di correnti atlantiche che porteranno precipitazioni e non ci sarà più diciamo il caldo che si sperava anche a Foso considerato anche il fatto che siamo in pieno periodo estivo in cui ci dovrebbe essere la il soleone e purtroppo quest'anno fino a fine luglio probabilmente non non è che è Grazie a tutti